Spero di dare il meglio e di mettermi completamente a disposizione della questura, è un rientro che mi fa molto piacere. Sono queste le prime parole da dirigente della squadra mobile della questura di Teramo di Roberta Cicchetti appena subentrata a Gennaro Capasso dopo 15 anni passato alla direzione della mobile di L'Aquila. Di origine aquilane sposate con una bimba e il nuovo dirigente della mobile teramana in polizia dal 2008, ma ha già accumulato importanti esperienze professionali. A Parma diretto l'ufficio prevenzione generale, soccorso pubblico e l'ufficio immigrazione, mentre dal 2013 è stata in forza la squadra mobile della questura di Bologna. Darò sicuramente il mio contributo sotto il profilo della sicurezza, sono abruzzese, conosco la città di Teramo e metterò a disposizione della città e dei cittadini della città di Teramo le mie competenze professionali maturate nel corso degli ultimi sei anni, gli ultimi quattro dei quali trascorsi alla squadra mobile della questura di Bologna dove ho lavorato alla sezione crimine diffuso, alla sezione criminalità straniera e prostituzione e alla sezione di contrasto al crimine organizzato. La presentazione del nuovo dirigente è stata l'occasione per il questore di Teramo Enrico De Simone di fare il punto sulla stagione estiva appena trascorsa e tracciare le linee dell'attività di prevenzione e repressione del crimine dei prossimi mesi. A questo proposito a breve ci sarà l'incontro tra Capasso e Cicchetti per concretizzare il passaggio delle consegne e un vertice con la Procura della Repubblica e il nuovo capo della mobile. Il bilancio è più che positivo e speriamo di continuare così, soprattutto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a mezzo della volante e dei servizi incrementati nella zona nord della costa hanno debellato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, di traffico di materiale contraffatto. Abbiamo fatto anche, come voi ben sapete, dei recuperi di refurtiva, tra cui quello famoso delle biciclette scoprendo un deposito dove erano già pronte per essere spedite all'estero. Adesso con la stagione invernale ricomincerà sicuramente a incrementarsi la prostituzione nella zona del litorale ma non di meno controlleremo il controllo del territorio proprio sulla città ma ripeto, sicuramente la costa con la prostituzione e quindi immigrazione clandestina è sempre chiaramente il discorso degli stupefacenti che si sposterà dalla costa all'interno degli appartamenti. Grazie. Grazie.